Bentornati sul canale Italia, oggi con le ultime notizie come Tommaso Trussardi non perde tempo, dimentica Michelle e si lascia fotografare con la sua nuova fiamma. Insieme sono bellissimi, ecco di chi si tratta. E, stata un'estate decisamente travagliata per Tommaso Trussardi, dopo più di dieci anni d'amore ha visto naufragare il suo matrimonio con la conduttrice Michelle Hunziker che si è consolata tra le possenti braccia di Giovanni Angiolini. La coppia ha trascorso le vacanze in Italia, entrambi si sono mostrati liberi e spensierati fino a quando, uno scupa ha lasciato tutti senza parole. Dopo una passione travolgente si sono lasciati, da quello che si dice in giro il motivo, è da ricercare nella voglia di paternità del noto chirurgo e di una brusca frenata nel rapporto da parte della conduttrice. Dopo questo amore fugace la bella Svizzera ha proposto a Tommaso di ricominciare ma il patron della famosa casa di moda ha snobbato clamorosamente il suo dietrofront. Da quanto emerso nei mesi scorsi, Michelle e Tommaso vivevano in case separate, lui a Milano dove conduceva una vita da single e lei a Bergamo dove trascorreva le giornate con le figlie, sole e celeste. Oggi Tommaso mostra a tutti la sua rivincita e si lascia immortalare con la sua presunta nuova fiamma. Lei è bellissima, capelli lunghi neri, occhi da cerviatta color verde smeraldo, labbra carnose e fisico perfetto. Come riporta il settimanale Diva e Donna, la nuova coppia sta trascorrendo alcuni giorni in costiera visitando Capri, Sorrento e Vistia. La fortunata che ha stregato Trussardi è Ruana Beshir, la 39enne di CEO e co-founder di PIC, società di San Francisco, America. Ruana nel 2014 è stata nominata come una delle 100 persone più creative da Fast Company. Attualmente sulla vicenda c'è assoluto riservo, non si sa come Tommaso e Beshir si siano conosciuti, soprattutto nulla è confermato sulla loro relazione, così come tiene a specificare lo stesso settimanale Diva e Donna. La donna è completamente diversa da Michelle, non solo nell'aspetto ma anche nel carattere. La prima molto esuberante e la seconda molto riflessiva. Probabile che Trussardi abbia deciso di cambiare completamente genere dopo il flop che ha scombussolato la sua famiglia. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.